Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. La profonda saccatura nord-atlantica continua il suo viaggio verso il Mediterraneo, attraversando Francia e Spagna e con sé sta arrecando maltempo diffuso sul centro nord Italia. Allo stesso tempo, sul lato orientale, gli intensi venti meridionali apporteranno un cospicuo rialzo delle temperature e una maggiore quantità di sabbia e umidità sui cieli del sud Italia, ma con poche precipitazioni. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni, per giovedì 27 aprile. Al mattino possibilità di nubi basse o nebbie sui settori ionici, altrove nuvolosità irregolare diffusa. Durante il pomeriggio nuvolosità in aumento sul Foggiano e Alto Potentino, altrove nuvolosità sparsa e qualche sprazzo di sole. Durante la sera e la notte, con l'avanzare della perturbazione, le prime precipitazioni faranno la loro comparsa a partire dal nord delle regioni. Temperature in ulteriore aumento, specie nei valori massimi, con punte anche oltre i 25 gradi sul tavolire, venti moderati o forti dai quadranti meridionali su tutta l'area ionica, Puglia centro-meridionale e Alto Foggiano. Mari agitato lo ionio, molto mosso l'Adriatico. Da oggi un nuovo servizio gratuito, previsioni sul vostro telefono, aggiungendo dall'app Telegram il canale Meteo One Puglia e Basilicata. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Alfonso Zuccalà, che ci regala un panorama mozzafiato, immerso tra cielo e mare, dalle rive di Roccavecchia in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno, contattateci al numero WhatsApp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per l'attenzione e al prossimo appuntamento.